Vicariello food, ovvero uno street food alla napoletana, palle di riso con pizzelle casalinghe. Allora questo piatto si fa con degli avanzi, è avanzato un trancio di pizza che abbiamo diviso in quattro e riscaldato al forno e poi un bel risotto con le zucchine, le palle di riso le abbiamo preparate così. Allora un bel cucchiaione di risotto, al centro ci mettete un po' di carne macinata oppure eventualmente un po' di mozzarella, infarinate, poi passate nell'uovo sbattuto e parmigiano, quindi pan grattato e a friggere a 170 gradi. Le pizzelle, quelle sono facilissime, il trancio di pizza l'abbiamo diviso in quattro e li abbiamo riscaldati al forno. Per dare un po' di vivacità, beh, due o tre pomodorini tagliati proprio a pezzettini e conditi con olio, sale e pepe. Due o tre foglie di basilico e tutti a tavola e buon appetito. Vaiù! Grazie a tutti!